Skill Lab, il centro di formazione del mio industriale di Torino e dell'AM, tra i suoi tanti corsi, il prossimo 28 di settembre avrà in modo una terza edizione del corso sulla centrale rischi Banca d'Italia, quello che noi chiamiamo il biglietto da visita verso il sistema bancario. Il corretto utilizzo del sistema bancario e quindi delle linee che il sistema finanziario accorde alle nostre imprese è un po' l'elemento portante affinché le nostre aziende possono trovare le risorse necessarie per i loro progetti di crescita. Molto importante è verificare che l'andamento dell'utilizzo delle linee sia coerente con quello che poi i nostri interlocutori finanziari leggono per dare finanza e ai prezzi migliori. Come possiamo controllare tutto ciò? Proprio attraverso la lettura della nostra centrale rischi. Molte volte le imprese pensano che sia, come dire, notizia di pochi intimi, in realtà è un diritto delle nostre imprese poter avere accesso alla centrale rischi direttamente in Banca d'Italia. Questo corso va proprio in questa direzione, non solo come richiedono che è l'elemento più basico, ma soprattutto come leggerla e interpretarne i contenuti. Siamo convinti che sia un'ennesima iniziativa per far crescere in particolare le nostre piccole e medie imprese nel rapporto col sistema finanziario.